Per il gol io sono contento che ha contribuito la vittoria della squadra, questo è l'importante. E ora abbiamo trovato una continuità di risultati e siamo contenti, siamo contenti, così dobbiamo giocare con umiltà, con abnegazione, con la voglia, con la fame. Poi alla fine escono i risultati, attaccati al risultato, anche contro la rispesa, non si prende gol, però comunque sul 2-1 non volevamo prendere gol, attaccati anche se mancano tante persone, non importa. Chi entra fa il suo, chi gioca fa il suo, manca bene, questo è lo spirito, per andare avanti questo è lo spirito. Anche perché poi le partite, quella di oggi, è una partita comunque difficile, al di là che giochi con il Molese, che magari è penultima, sono partite difficili perché le squadre ora non vogliono dare niente, si giocano a salvezza. La partita magari bloccata, hai avuto pazienza, sei andato in vantaggio, hai subito il gol, ma non hai perso danno, non sei perso danno. Non sai che magari, poteva capitare, che mai inconsciamente andava un po' sotto tono, invece no, hai continuato a giocare e poi hai trovato il 2-1 perché poi le partite sono fatte anche dei episodi. Hai tirato tante sei volte in porta, magari c'hai qualche ricorso, hai tirato tante volte di là. Quindi siamo contenti, siamo contenti, ma questa vittoria ce la dobbiamo vedere stasera, magari domani. Poi si pensa subito alla Lucchese, basta, perché ora mancano queste sei partite e dobbiamo fare tutto così.